Buongiorno, in questa terza parte vedremo quel che avanza e quindi sostanzialmente vedremo alcune considerazioni sulla deconvoluzione e poi termineremo con un esperimento su Schenflug che avevamo visto, ma io vorrei mostrarvi in azione perché è molto importante. Bene, partiamo quindi con la deconvoluzione. Abbiamo visto ampiamente il discorso della convoluzione, abbiamo visto come effettuare la convoluzione in varia maniera, passando da Fourier, eccetera, però il problema è che in certi casi può essere indispensabile effettuare la deconvoluzione, cioè partendo dal risultato di una convoluzione, riottenere il valore di partenza. Quindi sostanzialmente la deconvoluzione tenta di recuperare l'immagine originale partendo dalla conoscenza della point spread function. Tuttavia c'è un problema perché in teoria basterebbe, così come nella convoluzione si basta fare il prodotto delle trasformate di Fourier, qui basterebbe fare la divisione e andrebbe tutto a posto. Però purtroppo il problema è come si dice, mal posto, perché sono possibili diverse soluzioni. Inoltre il rumore può far sì che sia impossibile recuperare l'immagine e quindi la soluzione può divergere, da cui piccoli errori nell'immagine producono grandi errori nell'immagine ricostruita. Un classico problema mal posto. Ebbene, nel corso degli anni, in particolar modo il tutto ebbe uno spunto molto forte con il problema dello space telescope, come avevamo già visto. L'idea è quella di, diciamo, sono stati sviluppati svariati algoritmi in cui l'idea per ottenere la deconvoluzione è quella di procedere in modo iterativo e quindi non in modo diretto, visto che è impossibile. Ebbene, questa deconvoluzione iterativa parte dall'immagine che è inevitabilmente rumorosa, chiamata S, e dalla conoscenza della PSF-K. Per questo che nel caso del telescopio spaziale, grazie al fatto che il telescopio spaziale è vero che aveva un grave problema di aberrazione sferica, però aveva una PSF perfettamente nota e per di più non c'era l'aria di mezzo. Quindi se noi abbiamo l'immagine rumorosa S e la PSF-K, possiamo procedere in modo iterativo, cioè facciamo S meno la convoluzione della PSF-K per l'originale. L'originale qui supponiamo che sia S stesso, quindi facciamo K convoluto per O, S meno, più O, che è sempre S. Dopodiché otteniamo O' e ricontinuiamo in questa maniera. Ebbene, questo sistema procede per passi successivi, non garantisce la convergenza, ma funziona. Ci sono vari sistemi di deconvoluzione, questa formula ovviamente è importante, quindi è bene che ve la ricordiate, ci sono però vari sistemi di deconvoluzione che noi non vedremo, quella di Van Chittert e poi soprattutto questa famosissima Richardson-Lucy, Lucy, e poi anche altri filtri, tipo il filtro Divina. Noi però li vediamo in modo molto, diciamo, rapido, però volevo farvi vedere delle prove che ho fatto per farvi vedere cosa si riesce a fare. Allora, per esempio, prendiamo un'immagine a colori, ok? Vedete che qui c'è l'Alias incolorato, si vede bene, vedete qua? Si vede molto bene che questi colori ovviamente non ci dovrebbero essere. Bene, ne prendiamo il solo canale del verde per renderla monocromatica, inoltre il canale del verde, il canale migliore. Adesso prendiamo questa immagine e ne facciamo la convoluzione con una PSF. Prendiamo quindi un obiettivo con 50 mm, F1.4, F1.4, questo obiettivo non rende molto bene e soprattutto qui noi abbiamo fotografato una stella artificiale e abbiamo preso la PSF ai bordi dell'immagine. Come potete vedere la PSF non è buona, ok? Abbiamo comunque preso il canale del verde. 1024 per 1024 perché deve essere uguale alla dimensione. Ora, applicando questa PSF, facendo cioè la convoluzione di questa PSF e questa immagine, si ottiene questo, ok? Qui c'è anche scritto come l'ho fatto, quindi ho usato i mesi J, eccetera, eccetera. Quindi se volete rifare una cosa del genere lo potete fare facilmente. Ora, noi abbiamo la PSF perché la conosciamo perfettamente, abbiamo l'immagine ottenuta dalla convoluzione, vediamo cosa succede facendo la deconvoluzione. Vedete che adesso facendo la deconvoluzione con la stessa PSF, usando sempre i mesi J con un plug-in, port 1, settando adeguatamente tutti i parametri, non è per nulla facile ottenere questo tipo di risultato, però alla fine con tanta pazienza si ottiene questo risultato che, come potete vedere, è molto molto simile a questo, ok? Questo però è un risultato ottenuto con grande fatica e in condizioni, direi, praticamente ottimali. Bene, notare che la deconvoluzione è in grado di, diciamo, recuperare la PSF e quindi è in grado di recuperare anche una PSF che non è puntiforme a caso di movimento. Per esempio, vedete qui, io con la mano tengo un giocattolo e questa è una stella artificiale, una torcia sostanzialmente con un forellino, ok? Quella che abbiamo già visto. Ora, se io uso un tempo di pose sufficientemente lungo, la foto viene mossa e infatti qua si vede chiaramente che la fotografia è mossa, perché vedete che il puntino della stella artificiale si è mosso e poi anche, vedete, anche l'immagine stessa è mossa, si vede che, vedete per esempio il gatto, se ne vedono due, ok? Ora, vediamo che cosa succede. Quindi io ho preso questa immagine, ne ho preso un 2048x2048, adesso io cosa faccio? Estraggo la PSF, qui posso permettermi di distrarre la PSF dall'immagine stessa, proprio perché io ho inquadrato anche una stella artificiale, che mi permette di ottenere la PSF esatta, che è questa, vedete? Ora, se io a questo punto ho la PSF tagliata e quindi riadattata opportunamente e l'immagine, facendo la deconvoluzione con il plugin di ImageJ e con i parametri opportuni e alla fine aggiustando anche il contrasto, ottengo questo come risultato. Come potete vedere, il mosso è sparito, quindi il sistema ha funzionato, vedete che il gatto è tornato perfettamente a posto, vedete che questa è la stella artificiale che è tornata perfettamente puntiforme, però se uno vede l'immagine nel suo complesso non è per niente soddisfacente, perché come si può vedere vi sono delle ondine che percorrono tutta l'immagine. A cosa sono dovute queste ondine? Sono dovute al fatto che il sistema di deconvoluzione non è in grado di ottenere un risultato univoco, anche perché qui siamo in presenza di domini limitati, perché una delle condizioni fondamentali qui sarebbe di avere domini infiniti, che ovviamente non è questo il caso. E queste ondine fanno sì che sono dovute appunto principalmente a questo problema. Comunque nel complesso il risultato è interessante, perché come potete vedere la stella artificiale è diventata perfettamente tonda, quindi la deconvoluzione ha funzionato perfettamente, anche vedete queste righe, i profili, è tutto perfettamente corretto, come potete vedere, mentre invece qui era tutto ampiamente mosso. Tra l'altro vedete che era mosso, ma non semplicemente mosso, era praticamente, c'erano due punti, nel senso che c'era un punto in cui era rimasto abbastanza fermo, poi si era mosso e poi era rimasto abbastanza fermo di nuovo. Vedete? Qui l'intensità, non c'è solo il movimento, c'è anche l'intensità del moto, perché vedete che qui il moto è più veloce e qui è molto più lento. Bene. Ora io vorrei ancora vedere un paio di cose interessanti. Abbiamo visto molto chiaramente che per acquisire un'immagine ci sono sostanzialmente due parametri per macchine digitali. Il diaframma, cioè l'F number, per esempio F2,8, che vi ricordo essere il rapporto tra focale e diametro della lente, e poi il tempo di posa, cioè il tempo per il quale l'otturatore rimane aperto e la luce può fluire attraverso l'obiettivo. Quindi sostanzialmente per quanto tempo passa luce e quanto è grande il foro da cui passa la luce. Vi ricordo che la sensibilità ISO non è un parametro, soprattutto se il sistema è, come si dice, ISO invariante. Questo perché il numero di fotoni che cade sul sensore ovviamente non cambia con la sensibilità. L'unica differenza cambiando la sensibilità è l'amplificazione. Vi ricordo che naturalmente in pellicola era diverso, ricordo che a pellicola cambiando la sensibilità cambia fisicamente perché i grani di alloggio nuovo-targento diventano più grandi se la sensibilità aumenta, ma questo non è il caso. Quindi il numero di fotoni non cambia con gli ISO, solo l'amplificazione viene cambiata con gli ISO, per cui se noi abbiamo un numero, un valore più alto di ISO, cioè nella telecamera industriale aumentiamo il guadagno, abbiamo un più piccolo range di luce, quindi possiamo avere una minore dinamica di posa, cioè in altri termini abbiamo meno possibilità di rappresentare contemporaneamente oggetti molto luminosi e poco luminosi, che è di solito un grosso problema. Quindi in generale per esposizioni brevi, quindi minori di un secondo, cosa succede? Succede che le camere per qualunque segnale al di sopra di alcune centinaia di fotoni, quindi ovviamente deve esserci una certa luce, sono photon noise limited, cioè il problema principale è il rumore di poisson intrinseco nei fotoni che piovono sul sensore. Se invece il segnale è molto debole, quindi per esempio fotografiamo qualcosa di molto molto debole, per esempio quasi al buio, sempre però per meno di un secondo, abbiamo quindi un range di poche decine di fotoni, quindi pochissime, mentre qui erano centinaia, in questo caso il problema principale non è il rumore di poisson sui fotoni, e quindi sui foto elettroni, ma il rumore di readout, cioè quando noi leggiamo introduciamo dell'errore per il semplice fatto che leggiamo, e il problema è il rumore di readout proprio perché abbiamo pochissimi fotoni, come sempre lo scopre avere tanti fotoni, e era questo il motivo per cui io vi dicevo tenete l'istogramma a destra, perché se io tengo l'istogramma a destra vuol dire che ho tanti fotoni, e quindi sono photon noise limited, inoltre se sono a destra, io ho il vantaggio che risento meno di questo photon noise, proprio perché procede con la radice quadrata. Se però noi andiamo su esposizioni più lunghe, cosa che però in campo industriale non avviene mai, il problema principale è il thermal noise, cioè il fatto che il corpo del sensore, essendo in silicio, diciamo che produce cariche per se stesso, e quindi noi sostanzialmente vediamo delle cose che non esistono. In questo caso, come abbiamo visto quando abbiamo parlato di calibrazione, si può effettuare il dark frame, cioè sostanzialmente una fotografia a otto rato richiuso, per vedere quanto rumore, quanti foto elettroni produce il sensore, pur non ricevendo fotoni dall'esterno. Notate che questo dark frame viene fatto sistematicamente da tutte le reflex, se voi avete per esempio una reflex, ma anche una mirrorless, scattate ma anche i cellulari, e scattate una fotografia di notte, adesso ci sono cellulari che sono in grado di scattare buone foto anche con poca luce, vedrete che, forse magari qualcuno di voi l'ha visto e non ha capito perché, voi scattate la fotografia, questa fotografia dura magari 10-15 secondi, dopodiché per i successivi 10-15 secondi, la macchina fotografica è bloccata e scrive busy. Scrive busy proprio perché in realtà sta acquisendo una seconda fotografia, in cui l'otturatore è chiuso, quindi non arriva luce dall'esterno, però il sensore viene attivato, in questo modo può sostanzialmente andare a capire quant'è il contributo di rumore che arriva dal solo sensore, questo perché le pose sono lunghe, normalmente il trade off, diciamo il punto di confine tra questo scenario e questo è appunto un secondo, quindi al di sopra di un secondo il dark noise, il thermal noise, scusate, diventa importante, infatti a quel punto la macchina fotografica scatta una seconda fotografia per poi fare la sottrazione. Questo tipo di settaggio sulle reflex, sulle mirrorless, se volete potete escluderlo per scattare le foto più in fretta, perché altrimenti perdete il doppio del tempo e la macchina vi rimane bloccata, tenete però presente che se lo escludete la qualità delle immagini risulta sensibilmente inferiore. provate, se avete una reflex o una mirrorless potete provare facilmente. Ebbene, quindi abbiamo visto che cambiare l'ISO non cambia in alcun modo la luce che è entrata nella telecamera, cambia solo il modo in cui il segnale è amplificato, però abbiamo anche visto che i valori più alti di ISO significano un range luminoso più piccolo, cioè non riuscirete a fotografare contemporaneamente oggetti poco luminosi e tanto luminosi, quindi non va bene. Inoltre, il problema però degli ISO è che appunto il fatto per cui taluni sostengono che sia un parametro della fotografia è che il readout noise, per motivi costruttivi, quindi nei sensori che diciamo non sono della migliore qualità, il rumore di readout non è lo stesso cambiando gli ISO. E questo fa sì che, per esempio, se fotografate di notte con questa tipologia di sensori non di ottima qualità, siate obbligati ad aumentare gli ISO in modo tale da ridurre il rumore di readout con quelle riprese. Ok? Comunque, nei sensori migliori, soprattutto i Sony, anche montati sulla Nikon e anche ovviamente sulle Sony, e notate che i sensori Sony sono estremamente frequenti nelle telecamere industriali, se il rumore di readout non cambia al variare degli ISO, ebbene il sensore è chiamato ISO invariante oppure privo di ISO. Cioè, sostanzialmente, il settaggio degli ISO è del tutto inutile, questo nel caso ideale, però vi assicuro che ci sono sensori in cui questo settaggio è abbastanza inutile, o quasi del tutto inutile, soprattutto sulle telecamere industriali. Vedete, qui c'è un riferimento a un sito che ne parla lungamente, però io qui ho provato a fare un esperimento per mostrarvi questa cosa dal vero, e ovviamente il target ideale sono le stelle. proprio perché sono poco luminose, eccetera, eccetera. Allora, questa è una fotografia, questa è la costellazione del Cigno, in particolar modo questa, così, se qualcuno di voi vuole riprovare, vuole provare a riprodurre, questa è una nebulosa, vedete, chiamata Nord America, perché se voi la guardate, questo sembra il Golfo del Messico e questo è il Nord America, ok? Il suo nome ufficiale è NGC 7000. Ora, noi qui prenderemo, per il riferimento, questa zona, ok? Quindi ho messo solo il riferimento, perché così se qualcuno vuole riprovarci, lo può fare. Questa è una costellazione tipicamente estiva, infatti io ho scattato queste fotografie in estate, ok? Questa è la costellazione del Cigno e questa è la Nord America. Bene, procediamo. Allora, vedete, qui, in questa regione, che vi ricordo essere questo piccolo pezzettino, io ho scattato due serie di fotografie a 100, 400, 800, 1600 e 3200 ISO con due diverse macchine fotografiche, cioè dunque due differenti sensori con lo stesso obiettivo, allo stesso diaframma e con lo stesso tempo di posa, 30 secondi, ok? Questa è una Canon 5D2, una telecamera che ormai è vecchiotta, perché ha 12 anni e questa è una telecamera, è una macchina fotografica, questa è una macchina fotografica, anche questa è una macchina fotografica, però è più recente, perché ha, diciamo, 4-5 anni, ok? Ebbene, innanzitutto potete, la regione di, ovviamente, fotografata è rigorosamente la stessa, allora, vedete che le stelle in questione sono le stesse, solo che qui si ne vedono, si vede una, diciamo, è più ingrandita l'immagine, perché questo sensore è da 3,75 micron, mentre questo è da 6,41, questo è solo il motivo per cui le stelle si vedono, diciamo che il campo si vede più in grande, però è da questo punto di vista un dettaglio. Allora, se ci fate caso, qua, nella Canon, che non è per nulla ISO invariante, allora, questa è un'immagine scattata a 100 ISO e poi è stata, diciamo, spinta con il Photoshop o con GIMP, in modo tale da far emergere le stelle, ok? Allora, guardate qua, vedete che l'immagine non è buona, non è buona per niente. Se noi andiamo a 400, è già un po' migliore, a 800 è migliore ancora, 1,6 probabilmente la migliore, 3,2 risente già un po' della, diciamo, della, per così dire, del rumore, della sporcizia e di quant'altro, ok? Quindi, questo significa che, come potete vedere, passando da 100 ISO, vi ricordo che l'immagine è sempre stata scattata a 85 mm, F2,8, 30 secondi, e poi è stata scattata con diverse sensibilità. Quando è stata scattata a 100 ISO e poi è stata amplificata, cioè modificando, è stata spinta modificando l'esposizione in modo tale da ottenere la stessa, la stessa apparenza di quelle scattate con maggiore sensibilità, ok? Quindi il risultato apparentemente è lo stesso, però vedete chiaramente che qua si vedono meno stelle che qua, quindi, e inoltre c'è molto più rumore di fondo, si vede molto chiaramente, allora confrontate per esempio questa con questa, ok? Si vede nettamente. Adesso passiamo all'Olympus che ha un sensore Olympus che però è abbastanza ben ISO invariante. Allora, se adesso voi confrontate questa con questa, vedete che c'è una differenza minima, ok? Realmente minima. Si vede meglio così, vedete? La differenza c'è, ma è minima. Quindi si dice che questo sensore ha una buona ISO invarianza e questo ha una cattiva ISO invarianza. Ci sono sensori Sony molto recenti che hanno un'eccellente ISO invarianza. In altri termini, la regolazione dell'ISO è del tutto superflua, per cui voi potete scattare a 100 ISO e se poi volete vedere le zone in ombra aumentate l'esposizione con il GIMP e funziona benissimo. Funziona esattamente nella stessa maniera in cui funzionerebbe se voi scattaste a 1600 ISO. Perché scattare a 100? Perché in questo modo, scattando a 100, voi avete una più ampia dinamica del segnale e potete vedere contemporaneamente sia le zone molto luminose che le zone poco luminose, perché se voi scattate a 1600, le zone poco luminose, qui le vedete meglio, in questa che è poco ISO invariante, però le zone molto luminose nella stessa immagine a 1600 ISO diventano inevitabilmente sovraesposte e bruciate. Dal punto di vista industriale, cosa significa questo? Significa che se voi avete delle fotografie in cui vi sono delle differenze di luminosità importanti, cioè zone molto più illuminate, zone molto meno illuminate, perché per costruzione dell'immagine non potete avere sempre la stessa illuminazione, non avete nessun problema. Scattate la fotografia con il guadagno al minimo, quindi l'equivalente di 100 ISO, quindi guadagno 1, e poi se proprio se vi serve l'immagine nelle parti poco luminose, aumentate l'esposizione semplicemente spostando a destra l'istogramma con il GIMP o con un programma in OpenCV se preferite, che poi è la stessa cosa ovviamente. Quindi questo è appunto il concetto di ISO invarianza. Completiamo il discorso sull'esposizione, quindi abbiamo visto in modo direi abbastanza esaustivo che l'esposizione su un sistema digitale recente è unicamente collegato al diaframma e al tempo di posa, ok? Gli ISO sono un parametro che interviene in modo secondario solamente nei sensori, diciamo, di qualità meno buona, ok? Però noi abbiamo anche visto il concetto di Etendue, cioè il concetto di estensione, che dà, nel caso di un illuminatore o di una lente, un'idea molto precisa della quantità di luce che si può raccogliere. Abbiamo visto che se io con una lente di un illuminatore voglio raccogliere tutta la luce che parte da un LED, devo avere un'apertura numerica sufficiente sufficiente a catturare tutta questa luce. E l'apertura numerica, in questo caso, essendo il seno dell'angolo, è legata ovviamente alla dimensione della lente e alla sua lunghezza focale, perché i due parametri assieme producono quell'angolo alfa. Quindi l'apertura numerica è un altro modo molto semplice per identificare l'Etendue. Bene, allora proviamo a fare la stessa cosa a livello di esposizione, quindi non tanto per un illuminatore quanto per una normale esposizione standard. Quindi noi possiamo dire che l'esposizione è proporzionale al tempo di integrazione, quindi al tempo dell'otturatore, e poi al posto del diaframma ci mettiamo questi due parametri. AP, cioè l'area della pupilla, cioè della lente sostanzialmente, e ωP, cioè l'angolo proiettato solido del pixel quando viene visto dalla lente. Esempio. io sto guardando un aeroplano molto lontano, che ha, che sottende un angolo solido di ωP, abbastanza piccolo ovviamente. Ebbene, questo viene focalizzato da una lente che ha un diametro, e quindi ha una sua area, chiamata AP, e ha una sua lunghezza focale F. E poi qui ci sarà un sensore, in questo caso un quadrato di 3,75 x 3,75 micron quadri. Ok? Quindi il prodotto AP per ωP, quindi AP per ωP, e di nuovo le tendue o throughput, che abbiamo già visto per i sistemi di illuminazione. Ora, notate che se l'angolo ωP è piccolo, io posso approssimare, e se poi io voglio calcolare, posso dire che un pixel, quindi questa dimensione qua, è uguale alla focale, perché qui ovviamente questo è infinito, quindi tra qui e qui c'è la focale. Quindi la dimensione di un pixel la possiamo vedere come la focale per il seno di ωP, trigonometria. Ok? Però, se l'angolo ωP è molto piccolo, io posso approssimare il seno di ωP con ωP, per cui il pixel sarà F per ωP. Ok? Da cui ωP sarà uguale a un pixel diviso F. Benissimo. Allora noi lo facciamo, e facciamo, in questo caso, vedete, un pixel diviso F. quindi un pixel sono 3,75 micron, quindi 3,75 in 10 alla meno 3 millimetri, diviso 100, che è la lunghezza focale dell'obiettivo che abbiamo scelto per fare il nostro esperimento, viene 3,75 in 10 alla meno 3 diviso 100, e io con questo ottengo ωP. Ok? ωP è in radianti, quindi se lo voglio trasformare in secondi d'arco in gradi, dovrò moltiplicarlo per il numero di secondi d'arco che ci sono in un radiante. che sono 206.265. Quindi se io faccio 3,75 in 10 alla meno 3 millimetri diviso 100 millimetri per questo valore che si ottiene con questo calcolo, otterrò che ogni pixel, qui, da 3,75 micron, sottende 7,7 secondi d'arco. Non è in effetti un angolo solido. Ok? Quindi il mio ωP è 7,7 secondi d'arco. Il mio ωP è questo. Ok? Questo per il singolo pixel. Andiamo avanti. Allora, abbiamo visto che l'esposizione, cioè il numero di fotoni che un singolo pixel riceve, perché è quello che ci interessa, dipende appunto da quanto è grande sostanzialmente il pixel e da quanto è grande la lente. Quindi AP, che è questo, per ωP. Anzi, ωP per AP. Ora facciamo l'esperimento come prima. Allora, supponiamo per il momento che l'ωP di una stella sia sempre uguale. Ok? Perché questo? Perché effettivamente tutte le stelle sono così lontane che effettivamente sottendono un angolo del tutto insignificante, talmente piccolo che in effetti viene poi ridotto al disco di Eri. Però per il momento facciamo un'approssimazione e supponiamo che l'ωP di tutte le stelle sia sempre uguale, indipendentemente dalla lunghezza focale. Quindi ignoriamo per il momento il disco di Eri. Ora, guardate qui cosa succede. Noi abbiamo, ho scattato due fotografie con sempre l'Olympus, quindi il sensore, diciamo, ISO invariante, anche se qui non è un problema. Ho scattato delle foto da 30 secondi a 1600 ISO, solo per comodità. Ebbene, ho scattato una foto con l'85 mm che fa 2,8 e se voi fate 85 diviso 2,8 fa 30 mm che è la dimensione della lente. E poi ho scattato un'altra fotografia con un teleobiettivo, un 400 mm, l'ho chiuso a f13 perché 400 diviso 13 fa di nuovo 30 mm. Quindi queste due foto sono con AP per ωP fisso, perché ωP l'abbiamo dato per fisso, anche se in realtà non è completamente vero. AP l'abbiamo fissato noi cambiando il diaframma della lente. Se voi guardate queste due fotografie la scala dell'immagine è diversa, però il numero di stelle visualizzate è lo stesso. Ok? Chiaramente questa immagine è meno bella perché è più ingrandita, però la scala è la stessa. Questa vedete per esempio è più nitida però anche più rumorosa, quindi complessivamente il risultato è lo stesso. Ora, tenendo sempre ωP fisso cambiamo AP. Ok? E quindi per esempio scattiamo a f2,8. Ok? Tutte e due le fotografie sono scattate a f2,8. Ora qui vedete la differenza è abissale. Vedete? E nel caso del 400 mm a parte il problema di scala la differenza in termini di numero di stelle è incredibile. Per cui, per esempio, se voi vi mettete qui accanto a questa stella in questa zona qui non si vede nulla mentre qui si vede una pioggia di stelline. Ok? Però si vede immediatamente a occhio nudo. Ok? Ebbene, quindi questo significa che se io cambio AP inevitabilmente vedo più stelle. Ok? Ma la ωP di una stella quindi il discorso della esposizione è corretta ma la ωP di una stella è sempre uguale allora se noi andiamo a prendere l'angolo sotteso dalla stella sì, è sempre troppo piccolo perché parliamo di millesimi insomma di microsecondi d'arco quindi parliamo veramente di niente. Ok? Con qualsiasi telescopio da terra è troppo poco. Però il fatto è che la stella in effetti soprattutto su pose da 30 secondi perché qui parliamo di 30 secondi non copre più soltanto questo angolo piccolissimo si sparpaglia su un angolo molto più grande a causa della turbolenza dell'aria. Quindi anche se in teoria l'obiettivo a seconda del diametro dovrebbe avere un disco di aerei diverso all'impratica con 30 secondi di pose non cambia niente perché il disco di aerei si muove talmente tanto che copre un'area molto più grande di svariati secondi d'arco qui c'è anche un problema di inseguimento per cui alla fine se se c'è turbolenza nell'aria quindi in condizioni normali se io fotografo delle vere stelle non cambia nulla cioè l'omega p è effettivamente uguale diciamo che il fatto che sia la foto sia scattata con obiettivi diversi viene per così dire sorpassato dal fatto che la turbolenza livella tutti questi obiettivi però se io prendo una stella artificiale e quindi mi metto in condizioni ideali allora non è più vero perché con una stella artificiale io non ho più la turbolenza e a questo punto la stella artificiale è vero che con tutti e due gli obiettivi ha lo stesso angolo ovviamente ma siccome nessun dei due obiettivi riesce a risolvere la stella produce un disco di aerei e questo disco di aerei ha una dimensione che dipende dal diaframma quindi per esempio in questo caso è a f2,8 e quindi il disco di aerei avrà una dimensione di 2,8 per 1,3 se ricordate circa micron sul piano focale e quindi viene fuori 3,5 micron ok se io lo scatto a f13 13 per 1,3 fa 16 anche di più 18 19 micron quindi questo significa che il mio stesso disco qui diventa di 3,4 micron e qui diventa quasi 20 ok inevitabilmente siccome i fotoni sono gli stessi qui si sparpagliano su un'area molto più piccola e quindi se voi andate a fotografare l'immagine e poi andate a guardare col GIMP vedrete che questa immagine è più luminosa di questa cosa peraltro abbastanza ragionevole con lo stesso tempo con lo stesso tempo di integrazione quindi sto dicendo che se noi scattiamo una fotografia a una stella in condizioni ideali ok l'unica cosa che conta l'unica cosa che conta è il diametro della lente punto fine ok in condizioni ideali va bene perché ovviamente ωp non è lo stesso e quindi io ho bisogno di avere sostanzialmente una la condizione la condizione tipica è quella dei telescopi in cui diciamo che quello che conta di più è l'apertura ok l'apertura è la focale ok però in condizioni normali ok quindi quindi lasciamo perdere le stelle in condizioni normali AP per ωp saranno sostanzialmente l'equivalente del diaframma quindi questo significa che AF2,8 vedete qui ok AF2,8 se io fotografo qualcosa che non sono le stelle il risultato è lo stesso perché AF2,8 mi dà la stessa quantità di luce quindi in definitiva la posa quindi l'esposizione sarà proporzionale al tempo dell'otturatore per il diaframma ok questo sempre se però sono in casi particolari le stelle sono un caso particolare perché puntiforme quindi io più lo ingrandisco e più rimane puntiforme e cosa succederà succederà che io se aumento il diametro del mio telescopio vedrò più stelle questo è il motivo per cui si cerca di costruire telescopi sempre più grandi con peraltro un limite legato al fatto che la ωp della stella non è sempre uguale a seconda del rapporto a seconda del diaframma ok quindi in sostanza se io voglio fotografare le stelle sarà bene avere il diaframma possibilmente sempre F2,8 ma con la lunghezza focale maggiore cioè sostanzialmente un diametro maggiore ok bene passiamo ancora alle ultime due cose allora abbiamo già visto più di una volta che le fotografie a colori non esistono nel senso che i CCD e i CMOS sono in bianco e nero e dopodiché salvo il caso del foveon dopodiché vengono messi dei piccoli filtri davanti a ciascun pixel del CCD e del CMOS e poi tramite interpolazione vengono generati tutti i colori ora prendiamo un esempio strettamente monocromatico questo è il sole visto tramite un filtro monocromatore a 540 nanometri e quindi questa è un'immagine strettamente monocromatica però è stata scattata con una fotocamera a colori ora se ne andiamo a vedere l'immagine RAW vedete che ci sono qui anche delle parti che notate che il filtro è strettamente monocromatico monocromatore però i filtrini che sono davanti ai pixel non sono così perfetti e quindi voi vedete delle parti colorate insomma è un minimo di colore anche nei filtri che non sono quello del verde perché altrimenti voi dovreste avere solo il verde quindi qui per esempio avete l'immagine RAW mono l'immagine RAW a colori e questa è quella tramite il demosaicing usando la HD che è un ottimo algoritmo di demosaicing vedete che ovviamente voi avete così ottenuto tutti i colori compreso il rosso e il verde che in realtà ovviamente non ci sono e non ci dovrebbero essere anche se una piccola parte ci sono si parla di leakage cioè un po' di verde compare anche nel rosso e nel blu ora che cosa succede succede che quando io faccio il demosaicing ovviamente sto inventando dei valori che non ci sono inventare dei valori che non ci sono non è mai una bella cosa perché aumenta il rischio di aliasing come posso fare per evitare questo problema posso anziché scattare una sola fotografia posso scattarne tante e dopodiché metterle assieme dopo averle leggermente e mentre le scatto le shifto leggermente in questo modo riesco a ottenere tante fotografie di cui alcune riescono a darmi anche gli altri pixel cioè io scatto una prima fotografia con classica no? dopodiché sposto l'inquadratura di mezzo pixel un pixel e rifaccio la fotografia quindi notate che spostarmi in pixel è difficilissimo mi sposto in pixel e rifaccio la fotografia poi mi sposto in pixel su un pixel giù scatto otto fotografie e a questo punto metto assieme queste otto fotografie e in questo modo per ogni pixel avrò sia il valore di verde sia il valore di rosso sia il valore di blu e quindi il mio demosaicing funziona molto meglio ok? anzi diciamo che non serve nemmeno più ora esiste un algoritmo che si chiama Bayer Dritzling il Dritzling è un algoritmo legato al fatto che io posso prendere delle fotografie in bianco e nero scattare tante fotografie muovendo leggermente la telecamera in questo modo io le metto assieme e in questo modo ottengo una risoluzione maggiore ok? si può dimostrare che riesco a ottenere una risoluzione maggiore questo avviene solo quando l'immagine cioè l'obiettivo è in grado di restituire migliori risultati ma il sensore sta sottocampionando ok? ebbene il Bayer Dritzling è in grado di cancellare appunto effettuando questo campionamento multiplo è l'alias incolorato per esempio lo vedete qua vedete questo è l'alias incolorato dovuto al demosaicing di Bayer l'abbiamo già visto più volte ora che cosa succede? facciamo un esempio sulle stelle questa è un'immagine raw singola immagine l'immagine trattata con il demosaicing classico e l'immagine ottenuta facendo lo stacking cioè sovrapponendo 40 immagini che saranno inevitabilmente un pochino shiftate tra di loro se adesso noi andiamo a ingrandire questo pezzettino vedete che si vedono molte ma molte ma molte più stelle di prima ok? quindi questo sistema funziona voi direte questo sistema è un po' strano è vero ma questo sistema è usato da tutte le principali reflex soprattutto le mirrorless anzi le mirrorless scusate per ottenere immagini ad altissima qualità è stato introdotto diciamo dalla Pentax e dall'Olympus adesso c'è anche nelle Nikon e nelle Sony l'idea qual è? quella di scattare una prima fotografia poi scattare altre otto fotografie spostando il sensore perché tutti i sensori moderni sono montati su dei supporti mobili cioè sono in grado di muoversi essi stessi e questo perché in questo modo possono compensare le vibrazioni e i movimenti della persona quando impugna la macchina fotografica ok? l'anti-shaking che abbiamo visto e perché l'anti-shaking può venire fatto a livello di obiettivo come aveva fatto per esempio la Canon che costruisce anche dei binocoli con questo tipo di tecnologia oppure può venire fatto di ottima qualità oppure può essere fatto a livello di sensore cioè muovendo il sensore in modo tale da controbilanciare le vibrazioni ok? ora siccome il sensore di tutte le moderne mirrorless è costruito appunto per poter controbilanciare le vibrazioni non costa nulla ad operare questo meccanismo per controbilanciare le vibrazioni per scattare queste fotografie multiple il sistema funziona in modo eccellente nel senso che è in grado di raddoppiare raddoppiare la risoluzione lineare del sistema a patto naturalmente che l'obiettivo sia di qualità adeguata ok? ebbene funziona molto bene se volete andate a cercare su internet vedrete che funziona molto bene ha solo un difetto non funziona con scene in movimento perché naturalmente io devo scattare un certo numero di fotografie e la macchina deve essere perfettamente ferma su treppiede e anche la scene non deve essere in evoluzione perché altrimenti non funziona però provate andare a vedere e si riescono ad ottenere delle fotografie di risoluzione molto più alta e inoltre come effetto collaterale molto gradevole scompare completamente questo alias incolorato proprio perché la frequenza di campionamento viene ripristinata correttamente bene ancora una cosa relativa al discorso dei sensori e completiamo il ragionamento dei sensori allora abbiamo visto che se noi abbiamo un certo f-number quindi un certo diaframma per esempio 2,8 per lenti differenti 400 e 16 oppure 85 che abbiamo visto prima il flusso di fotoni su ciascun micrometro quadrato del sensore è costante perché se voi andate a se ci pensate su AP per Omega P calcolato per un micron quadrato rimane costante perché se io per esempio ho una lunghezza focale inferiore ok Omega P sarà più grande ma insomma AP e Omega P sostanzialmente si compensano a vicenda ok quindi per esempio con una lunghezza focale inferiore AP sarà più piccolo ma Omega P sarà più grande con un teleobiettivo io avrò ovviamente Omega P più piccolo ma AP più grande e siccome quello che conta è il prodotto il risultato rimane costante vi ricordo che questo era esattamente quello che abbiamo visto prima perché noi stiamo dicendo che vedete che l'esposizione è proporzionale al tempo per AP per Omega P se io tengo F2,8 costante questo rimane costante vi ho fatto notare però qui che ci sono c'è un caso in cui io se lavoro sulle singole stelle chiaramente vedete se io AP Omega P fisso sono a posto infatti ottengo esattamente lo stesso risultato ok se io cambio AP ora il caso eccezionale è questo perché in effetti Omega P non è esattamente la stessa cosa però per un caso molto particolare come le stelle normalmente non succede nulla in generale su questo ovviamente quindi questo significa che se io però cambio la dimensione del sensore per esempio lo riduco del singolo pixel cosa succede? succede che siccome il flusso su ogni microinquadrato è sempre lo stesso se io ho il sensore più piccolo cadranno meno fotoni su ciascun pixel per cui avrò bisogno di amplificare maggiormente i fotoni esistenti se amplifico maggiormente i maggiori i fotoni esistenti in foto elettroni avrò più rumore quindi il rapporto sugnare rumore sarà ridotto questo è esattamente quello che succede comparando immagini prese ad esempio con una reflex full frame ad uno smartphone ok questa è una reflex full frame che ha 12 anni sensore 6,41 micron di lato e ho scattato con un 31 mm f2,2 poi ho scattato una seconda fotografia con un Samsung S5 il pixel size è 1,12 tenete conto che i pixel size degli smartphone moderni sono di solito sotto al micron e la lente è un 4,8 mm f2,2 perché 4,8 perché siccome il sensore di per sé è più piccolo ovviamente la lente deve avere una lunghezza focale inferiore quindi f2,2 è lo stesso ok se f2,2 è lo stesso su ogni micron quadrato di sensore cadrà lo stesso numero di fotoni però la 5D 2 pixel più grandi quindi ogni pixel riceve più fotoni e servirà a meno amplificazione da cui un migliore rapporto segnale rumore si noti anche che l'omega P riferito all'intero sensore non al micron quadrato ma al micrometro quadrato è lo stesso perché 4,8 mm equivalgono a 31 come vi dicevo ok ma AP è ovviamente molto superiore con la 5D perché se voi fate 31 diviso 2,2 è molto maggiore di 4,8 diviso 2,2 ok omega P del sensore se voi andate a prendere l'omega P in generale cioè del singolo pixel è lo stesso il problema però è che diciamo si compensa con la P ok perché è sempre f2 e rola 2 questa è la cosa importante però essendo il pixel più piccolo riceverà meno fotoni e questi minori fotoni creeranno più rumore ecco il risultato allora due fotografie alla mole non è esattamente lo stesso perché non sono riuscito a metterli esattamente nella stessa condizione ma vi assicuro che è sufficientemente simile vedete questa è la macchina fotografica e questo è l'S5 ecco qua si vede molto bene il risultato vedete che qui pur avendo formalmente ok lo stesso diaframma quindi lo stesso numero di fotoni per micrometro quadrato ok l'immagine finale è meno buona perché per ogni singolo pixel ci saranno meno fotoni di per sé l'immagine è uguale ma c'è più rumore c'è il rapporto diciamo che il risultato è uguale ma il rapporto segnale rumore è meno buono qua da cui questo risultato questo spiega proprio perché spiega bene perché i smartphone quando scattano fotografie di notte ottengono immagini che sono nettamente meno buone delle macchine fotografiche tradizionali è proprio questione di dimensione del pixel ed è una cosa non risolubile perché dipende dalla fisica ok infatti le macchine fotografiche degli smartphone più moderni per migliorare le fotografie notturne usano più camere ora vediamo ancora abbiamo terminato il discorso dei CCD e CMOS c'è ancora una parte che io voglio fare abbiamo visto ampiamente la profondità di campo abbiamo visto che questa è la formula approssimata ok se noi prendiamo N e gli mettiamo al posto F su U di 0 cambiamo la formula cambia diventa così che è la stessa cosa per cui la profondità di campo T dipende da T U cioè la distanza di messa a fuoco e C circolo di confusione da F da D 0 se F oppure D 0 o ambe due aumentano T diminuisce perché questi sono denominatori se tra F o D 0 uno delle due incrementa e l'altra si decrementa nello stesso modo la T sarà costante ora io qua volevo semplicemente farvi vedere perché avevamo visto molto brevemente con la mira della profondità di campo come funzionava il sistema però non abbiamo fatto delle prove queste prove sono piuttosto difficili da realizzare nella pratica allora vedete qui abbiamo la nostra mira che è la 54-440 di Helmut Optics queste sono 10 linee al millimetro queste sono 30 linee al millimetro siamo messi a 63 cm di distanza il circolo di confusione 5 micron perché il camera pixel size è 3,75 ma qui siamo a colori quindi prendiamo un po' di più di un pixel la lunghezza focale è 50 oppure 100 mm l'abbiamo fatto con due obiettivi diversi i diaframmi ho provato da 2 a 4 a 8 e 16 li ho provati tutti ok ho fatto varie prove il fuoco è settato a metà della mira cioè qui ok andiamo a vedere i risultati allora la profondità di campo calcolata è 3,175 millimetri e questa è la fotografia corrispondente a f2 il 50 mm il diametro è 25 perché 50 diviso f2 fa 25 ecco vedete che qui abbiamo 3,175 millimetri di profondità complessiva diciamo 1,2 più qualcosa ok si vede discretamente però non benissimo se noi adesso chiudiamo a f4 la profondità di campo diventa di 6 mm e in effetti noi siamo sempre centrati qua però vedete che si sposta un po' più in là e rimane comunque sempre qua grosso modo qui la profondità di campo se poi passiamo al 100 mm la profondità di campo calcolata è 1,58 ok a f4 vedete che 1,58 è un millimetro circa più qualcosa di più ok vedete che tornano abbastanza i conti con la teoria adesso il 100 mm a f8 la profondità di campo calcolata diventa 3,18 e qui vedete che ci siamo perché questo non è più a fuoco questo non è più a fuoco qui bene o male è a fuoco ok notate che noi abbiamo fatto i calcoli con un circolo di confusione di 5 micron ok che quindi è molto esigente infine se noi prendiamo il 100 mm ma f16 vedete che la profondità di campo diventa molto più grande di 6,35 mm ok ma se noi consideriamo che il circolo di confusione qui è di 20 micron perché noi abbiamo stiamo lavorando f16 quindi a tutti gli effetti il disco di aereo è 16 per 1,3 quindi non abbiamo più 5 micron il nostro circolo di confusione si è espanso per il semplice fatto che abbiamo chiuso il diaframma rifacendo i conti viene 25,4 mm e in effetti vedete che io qui ho tagliato incollato varie fotografie per mostrare la profondità di campo ma è molto ampia ok però attenzione qui già eravamo a f8 quindi il c pari a 1,1 il c pari a 5 micron è sbagliato perché questo 8 non è più 8 ok cioè scusate non è più 5 micron è 8 per 1,3 e qui è 4 per 1,3 che è più o meno ancora 5 mm infatti questo combacia bene questo valore combacia bene 1,58 questo combacia già un filino meno bene qui combacia male perché vedete che calcolato è 6,35 ma io ne ho molto di più perché vedete che è molto molto di più ok bene ultimo argomento con cui voglio farvi vedere anche un esperimento interessante e cioè le cosiddette camere 3D le camere 3D sono molto molto diffuse in ambito industriale e sono realizzate tramite dei profilometri molto spesso l'idea è quella di usare una linea laser proiettata che produce un profilo del soggetto che si sta muovendo in questo modo si riesce a recuperare la sua struttura 3D questo l'avevamo anche già visto all'interno della camera c'è un FPGA che provvede a fare tutti i conti e a ricostruire la struttura 3D dell'oggetto per cui è a costo zero ok a seconda della posizione relativa del laser e dell'oggetto può essere difficile o perfino impossibile ricostruire correttamente l'oggetto perché si potrebbe si può anche rischiare di andare in sottosquadro e quindi non vedere più nulla la camera notate che non è una line scan è una area scan di cui però vengono usate soltanto una parte dei pixel verticali quindi una region of interest ROI verticale se la region of interest è piccola il profilo 3D può essere costruito fino a 200.000 volte al secondo vedete io qui ho la mia camera il mio laser è proiettato angolato naturalmente e produce un profilo sull'oggetto io fotografo il profilo ok e sulla base di come è fatto il profilo io deduco la struttura 3D dell'oggetto ok è chiaro che se l'oggetto è poco spesso la distanza che c'è tra qui e qui sull'orizzontale è più piccola e quindi posso permettermi di usare meno righe del sensore per assurdo anche solo 8 in questo caso posso andare vedete a 116.000 profili calcolati al secondo se invece l'oggetto ha una forte profondità io avrò una parte inquadrata qui una parte inquadrata qui una parte inquadrata qui e quindi userò una maggior parte delle righe per esempio tutte 1024 a quel punto andrò molto più lento vedete 1000 volte al secondo quindi 100 volte meno e questo per esempio è un esempio di telecamera di questo tipo che ho riportato con la sua risoluzione il pixel size 10 bit quindi la lunghezza del profilo è messa per così invece lo spessore è messo per così bene ora il problema è che in questi casi io potrei avere la necessità di riuscire ad avere questo profilo il mio problema è che io lo vorrei sempre a fuoco perché non è così banale nel senso che io qua ho il mio obiettivo che mette a fuoco ma questo potrebbe essere questo pezzo di profilo è a fuoco e questo pezzo non è a fuoco e quindi ottengo un problema ricavo ovviamente un problema notate che questo è la vista lato telecamera vedete questo è il profilo che vedo io da questo profilo la telecamera ricostruisce la struttura però come vi dicevo questo può essere a fuoco questo un po' meno questo non più a fuoco e se non è bene a fuoco la qualità dell'immagine scende molto e per questo che io posso usare di nuovo Shane Flug come abbiamo già visto quindi posso usare uno speciale adattatore per l'obiettivo in modo tale da ottenere dei profili molto più nitidi per esempio una cosa del genere vedete io qui ho questo è il mio vedete il laser che proietta il profilo quindi il profilo è inclinato e io voglio che questo profilo sia interamente a fuoco va bene allora vedrete che avrò il mio sensore o il mio obiettivo che devono essere spostati inclinati quindi tilted in modo tale che il piano che passa di qua il piano che passa di qua il piano che passa qui siano quando quando prolungati giungano ad una retta verticale comune in questo modo il profilo sarà completamente e sempre a fuoco ok questo è una cosa che abbiamo già visto però questa è una tipica applicazione industriale molto importante estremamente diffusa perché le camere 3d sono molto molto comuni in quanto permettono di ricostruire ce ne sono ci sono alcuni modelli che sono estremamente precisi ora siccome diciamo Sheinflug è estremamente importante in ambito industriale certo non è comunissimo però in ambito industriale è importante volevo farvi vedere un esperimento che che vi ho preparato ed è questo l'esperimento allora l'esperimento riguarda sostanzialmente non tanto l'ambito industriale stretto ma se vogliamo un ambito per così dire biomedico ok allora l'idea è questa io voglio riprodurre il topografo corneale di cui vi ho parlato la volta scorsa ok adesso vediamo se riesco a farvi ad essere chiaro con questo disegnino allora ecco qui allora magari facciamo una cosa ecco qua allora allora adesso voi immaginate di avere di voler fotografare la cornea di una persona ok allora questo è l'occhio ok vedete che sostanzialmente questo è il cristallino e questo è il profilo della cornea e questo naturalmente è la parte più interna dell'occhio la cornea sporge leggermente noi vogliamo ottenere una fotografia di questo genere perché vogliamo vedere tutto il profilo della cornea notate che la cornea è spesa circa 500 micrometri circa mezzo millimetro più o meno ok ora noi la vogliamo fotografare ovviamente senza danne senza alcun danno per l'occhio allora se noi guardiamo di qua sopra vedete questa è una vista in pianta della testa di una persona quindi qui avete i capelli qui avete la fronte qui avete le sopracciglia ok queste sono le guance lo spiego perché il mio disegno non è un granché questo ovviamente è il naso e queste vedete sono le due corne che spuntano un po' fuori l'occhio ovviamente è aperto ora io voglio vedete fotografare questo profilo rosso perché quel profilo rosso rimane questo profilo rosso e il risultato sarà una foto fatta così vista da questa parte ok allora l'ideale sarebbe riuscire a mettersi esattamente qui ok non posso farlo non posso farlo perché ci sono delle parti del corpo che me lo impediscono per esempio qui c'è il naso di cui potrebbe esserci un'altra parte del corpo da sotto perché io in realtà cosa siccome io ho questo profilo io voglio ricostruire completamente la forma della cornea quindi non me ne basta uno di profilo io devo fare far fare alla telecamera il giro completo cioè devo scattare una foto di qua una di qua una di qua una di sopra una così una così una così di sotto di sotto in questo modo io ricostruisco il profilo in tre dimensioni della cornea che è esattamente quello che voglio notate che un problema del tutto analogo sarebbe se in ambito industriale io volessi fotografare l'interno di un pezzo vedete ora che ovviamente non posso infilare la telecamera dentro quindi lo devo fotografare da fuori perché questo mi ostruisce la vista e qui lo stesso identico problema io non posso fare la foto esattamente di qua perché ci sono degli oggetti che mi bloccano allora io qual è il mio scopo uso Shaneflug ok come faccio ad usare Shaneflug vedete io qui metto la mia telecamera ok poi il piano che voglio a fuoco è il piano che affetta letteralmente la cornea ed è messo per così ok il piano del sensore è questo ora il piano dell'obiettivo va messo in modo tale che questo piano finisca qui e questi tre piani si incontrino ok se io faccio una cosa del genere riesco a mettere a fuoco questo mentre normalmente metterei a fuoco un piano messo per così e quindi questo non sarebbe tutto a fuoco dopodiché vedete io faccio prendo questa telecamera la faccio girare su un'asse che passa ovviamente attorno all'occhio la faccio girare per così ok e acquisisco tutte le fotografie dello spessore della cornea e quando ho tutte queste io riesco a ricostruire la struttura 3D completa della cornea questo esiste veramente il topografo corneale se andate a cercare su internet lo trovate e c'è un modello italiano che si chiama Sirius che viene usato e produce esattamente questo tipo di immagini e permette di ottenere dei risultati molto interessanti perché serve a diciamo ovviamente a diagnosticare problemi all'occhio e quant'altro bene allora io questo è l'esempio del topografo corneale di cui avevo già parlato però ve ne avevo detto ve ne avevo parlato in modo molto sommario vediamo che questo è l'equivalente se io voglio fotografare una cavità di nuovo io devo inclinare questo vediamolo in azione allora vedete che io sostanzialmente adesso qui possiamo allora vi faccio vedere allora io qui ho messo telecamera industriale montata su con alcuni adattatori su un soffietto questo è un obiettivo in realtà un obiettivo del granditore montato tutto su un treppiede tutto questo è regolabile poi per simulare mettiamola così per simulare la cornea da fotografare ho messo la mira della profondità di campo messa per così quindi se ci fate caso questa è esattamente la stessa condizione ok io sto cercando di fotografare lo spessore della cornea ok nelle stesse condizioni ipotetiche allora vedete che io qui ho se voi andate a prendere io qui ho un angolo che vedete io continuo per così continuo per così e poi questo lo lo porto qua e questi tre si incontreranno qui da qualche parte ok benissimo adesso vediamo l'effetto di questa cosa eccolo qui lo metto un po' più in qua adesso vedete che qui noi abbiamo aspettate che qui mi sono ovviamente ho un problema perché mi sono perso la telecamera speriamo di agganciarla eccola qui vediamo un po' perfetto ok allora vedete che io qui come faccio vedete che io qui ovviamente non è un calcolo preciso si può calcolare con grande precisione perché vedete che io qua posso vedete come è fatto questo è inclinato tutti gli effetti adesso vi faccio vedere che come si può gestire allora io come faccio posso per esempio far muovere avanti indietro questo per migliorare la messa a fuoco adesso io giro cercando di non spaccare tutto se io qua faccio così vedete che va fuori fuoco oppure fuori fuoco di qua vedete io porto fuoco meglio che posso e vedete che ha fuoco non è perfetto ok allora proviamo a cambiare leggermente l'inclinazione vedete questo vedete allora aumentiamo un po' l'inclinazione allora innanzitutto raddrizziamolo ok ad essere raddrizzato proviamo a mettere a fuoco ecco qui notate che stiamo inquadrando un altro punto della mira però si vede molto bene che la messa a fuoco è ridottissima quindi assolutamente insufficiente ok quindi adesso riproviamo di nuovo a riportare a fuoco ecco facciamo così eccolo qui forse un po' troppo ecco ecco qui direi che è riuscito piuttosto bene non è perfetto eh intendiamoci ecco però il risultato è buono come potete vedere qui come vi dicevo abbiamo il caso con il tilt quindi utilizzando Schenflug adesso vedete io lo riporto vedete ho semplicemente allineato vedete man mano che io muovo la messa a fuoco ci sono alcune zone che vanno a fuoco e altre che vanno fuori fuoco quindi per concludere l'idea è appunto quella di mostrarvi come funziona per esempio il topografo corneale che è un esempio che ragionevolmente può essere utile soprattutto in ambito biomedico e con questo abbiamo terminato grazie grazie